Stiamo terminando adesso, in questa settimana termineremo i lavori delle scogliere di Ponente, la Chiatta attualmente è qui in mare per terminare questo intervento, un intervento complessivo di 780 mila euro che ci permetterà, ci auguriamo di avere meno erosione almeno in quel lato di costa. Il ribasso di questo intervento avevamo pensato di utilizzarlo per una sistemazione parziale di tre scogliere sotto Monte ma gli aspetti burocratici ci hanno fermato quindi dovremmo partecipare ad un nuovo bando pensando di avere in cassa già la quota del ribasso che era di nostra competenza. Queste scogliere sono state realizzate e finanziate in parte dall'amministrazione comunale per circa il 50% e per il 50% della regione però la burocrazia non ci permette di spendere i ribassi in un progetto differente da quello di Ponente quindi purtroppo lasciamo sul banco stimati circa 150 mila euro di lavoro e contiamo però di recuperarli a breve.